ciao a tutti oggi prepareremo i biscotti veloci al cioccolato il tempo di preparazione della ricetta è di 20 minuti circa gli ingredienti sono cioccolato fondente farina zucchero burro uova e lievito per dolci diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il cioccolato chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 10 secondi a velocità 10 aggiungiamo lo zucchero la farina l'uovo il burro e lievito per dolci chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 6 composto è pronto adesso formeremo i biscotti un piattino posizioniamo dello zucchero semolato ci aiuteremo anche con una forchetta prendiamo una parte del composto andiamo a formare una pallina la posizioniamo sullo zucchero e la schiacciamo con i rebbi di una forchetta vedete lo zucchero nella parte sotto del biscotto e li posizioneremo su una teglia rivestita con carta da forno proseguiamo così per tutto il resto del composto una volta formati tutti i biscotti li cuoceremo in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20 minuti i biscotti una volta cotti risulteranno leggermente morbidi la consistenza giusta si raggiungerà al momento in cui il biscotto si sarà raffreddato andiamo a cuocerli biscotti veloci al cioccolato grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti